Noi intendiamo ripensare completamente la strategia fiscale sulla nautica, a cominciare dall'IVA e passando su una idea terroristica di tassa di stazionamento che ha dirottato altrove le imbarcazioni anche degli stranieri e anche se poi si è fatto a marcia indietro, la paura aveva già preso il sopravvento e le imbarcazioni se ne erano andate. Tra i vari danni che ha fatto il governo Monti vi è quello di avere distrutto il settore della nautica, circa un miliardo di euro di danno all'indotto e 30.000 lavoratori che hanno perso il lavoro, che ricchi non erano e poveri sono diventati. Con questa strategia fiscale del governo Monti noi abbiamo regalato turismo agli stati vicini all'Italia e abbiamo creato un danno a uno dei pezzi pregiati del made in Italy. Quindi occorre riprogettare un sistema fiscale sulla nautica che attiri il turismo e non che lo cacci via ed inoltre occorre fare calare la paura e il timore. Qui ho parlato con imprenditori del settore della nautica che con grande chiarezza hanno detto che i nostri clienti hanno paura, vanno all'estero, non vendiamo più le barche e non vendere le barche significa non fare lavorare più le maestranze, non fare lavorare gli operai, non fare lavorare tutti coloro i quali che si occupino di falegnameria o di meccanica, lavorano nell'indotto. Insomma un gran danno per un settore dell'eccellenza del made in Italy, un approccio ideologico che ha distrutto un settore che non è per ricchi ma che dà tanto lavoro, tantissimo lavoro a tanta gente che ha perso il posto di lavoro ha rischiato di perderlo. Una domanda sull'ultimo giorno di campagna elettorale, quali sono i punti chiave da ricordare in questi ultimi momenti alle persone che ascoltano? Rimborseremo l'Imu pagata nel 2012 dai cittadini che hanno la prima casa e anche dagli imprenditori agricoli e dagli agricoltori che l'hanno pagata sui capannoni e fabbricati industriali, elimineremo l'Imu per gli anni a venire sulla prima casa e diremo agli imprenditori che vogliono assumere zero tasse per cinque anni se assumete un giovane disoccupato. Lei è qui in visita privata, è una passione, un divertimento? Che cos'è la nautica per lei? Innanzitutto è un'emozione e un ricordo. Sono nato in un posto di mare, in una città bellissima di nome Agrigento che ha un mare straordinario e quindi è un'emozione e un ricordo ma è anche diventato il convincimento che questo sia davvero un luogo di eccellenza del made in Italy che non va né punito né anche frustrato. Se si fa una scelta punitiva nei confronti di questo segmento del made in Italy si ottengono i risultati che ha ottenuto il governo Monti, c'è un miliardo di danno al settore e una grande, grandissima moltitudine di persone che hanno perso il lavoro, oltre 30.000 lavoratori operai che hanno perso il lavoro, che non erano certamente ricchi e che sono diventati poveri e disoccupati. E' distrutto un know-how e abbiamo esportato turismo, invece che importare turisti abbiamo esportato turismo. Questa è una grande, grandissima pecca e colpa del governo Monti. Per le fiere, che cosa pensate queste fiere? Perché il momento difficile dell'economia porta difficoltà anche agli organizzatori degli enti fieristici. Che cosa intendete fare per il futuro in questo compagno? Noi dobbiamo rilanciare il settore commerciale con delle politiche fiscali che non penalizzino il commercio. Questo è il punto centrale perché se non si parte dalla leva fiscale non si comprende qual è l'origine della difficoltà.